Oh, è l'ora! Dai! Ne che patatine di merda, giù, porco, eh! Erano duri, eh? Guarda che c'è un taglio, non è un... C'è una gonfio, eh, c'è un gonfio nel po'. E' una p***a, una mia forte, cioè, ma da mezzo metro, eh, da mezzo metro, quelle sottili a punta, vabbè, quelle che sono dure, durano a fine. Ok, questo è l'intro del video. E' impossibile ferirsi con delle patate, eh, gli occhiali. E' una spazzata questa qua. Sono arrivati a 300 km orari. Ah, vabbè, ma mi sa che mi è arrivata a punta, secondo me, se mi è fatto un taglio. Sono un gonfio, ho un nezzo gonfio, te lo giuro, ma la mattina mi fa, neanche se è un gonfio, te per vedere patatine. Oddio, eh, oddio che ho tutto buco e a mezzo metro si sclamano a pieno. Mi sono riuscito a guardare il tavolo. Oh, aspetta, questo qui è il mio gicchino. Oh, aspetta! Oh, aspetta! C'è uno, c'è uno! No, 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 no! Anch'io! Merda, 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 pieno, pieno! Oh, aspetta! No, 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 no! Umba terra, riuscire! Ehi, uu! Grande, no, no! No, no! Cosa sono, gli occhiali? cazzo dove? eh eh vai 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 dentro dentro eh non metterlo ma com'è possibile? com'è possibile? questo qua dio porco dai ma da dove? ma che due mani? ma cazzo giochi dai ma c'ha creato eh ma dai ma com'è giù? dove è le ho? eh la ridere scala l'ha fingato prima Dio 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 te lo lasciati per terra hai visto? eh sì lo vi hai lasciati qua ho preso ma se lo hai lasciati qua ma c'ho le 4.000 te l'ho cosciuta eh ma perché hanno hanno chiuso da fanno tenti tu un altro no 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 ma addio porco eh vabbè sai che so ma quanti sono in due bravo ma che due coi dei mini royale rinascita spacca ma c'è già mezza mappa stai safe eh sì ma sì eh taglio al 3 soprattutto oh c'è una qua eh c'è una qua c'è una qua chi è che sbacca le porte? ah non io chi è che da chi è sì eh chiudete urlando mini poi l'ho fatto male dove, dove, dove? qui qui era messo il tiro ad un su c'è uno c'è unse una tipa c'è una tipa oun tipo al gula che si chiama Valentino Nappi Nooo Vabbè dai niente basta morto E' impossibile oggi Sparano mi sparano Ma? Grande Leo Eh l'ho visto l'ho visto Mi rifaccio a chi A terra Oh ancora lì che mi era qualcuno Oh ha scelta Ah io c'ho solo un mitra No 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 Buona colpa Come sei messo tu a colpi ai Raven Da vita non ci credo figlio di puttana camperato Dio noia figlio di puttana camperato non ci credo Quanti siamo in partita Eeeh In due Come in due? Si ci sono rimasti due Oh no due contro due Nooo no Ah no no Trovano in cinque E manca uno No noi sono team team Nooooo No i team sono due Siamo in quattro persone Noi siamo in quattro Nooo Nooo Allora Sono su Quale di fronte Anche la terra Ah Si è stato un team da solo Ho usato il bombardamento lì Fantastico Dio merda Ti ho sparato tutti i colpi Dio porco Ma Dio cane È not paro È not paro Posto 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 Qua 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 Porco Dio Mori coglione di merda Mori subito Oh no un altro Va dietro Mazzaro Coglione No c'è un altro Da dietro Sulla torre Che coglione morco Dio Dai io non ti metti sodi Ho capito Non ci credo Non ci credo Stavo scendendo Sulla torre Sulla torre E' sgolio E' sgolio E' uno Uno te e uno io Patrick Si Oh c'è C'è uno C'è uno Vai subito 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 Dietro Posto Non avrò armi Non ho un cazzo di armi Ma per la che è tracato L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Raga E' lì davanti E' lì davanti Porco Dio Ok Che è E' lì davanti Ma dai L'ho ucciso E' lì E' lì E' lì E' lì Messo male Messo male Messo male Cazzo andiamo madonna con la pistola nooo l'ho tirato con la pistola uno vai 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 questo 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 faccio l'altro grande leo grande leo grande leo 7 kill leo oh vai 3 kill prendi quello leo ci sta ah ti prendi quello leo prendi quello leo si stenditi 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 prendi quelli di trelline lì ah posso dire l'altra mitaglia no no non c'ho armi non c'ho meno qui su oh ti occhiano ma su guardi guardi ok vai 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 un colpo un colpo un colto un altro dov'è qua qua vai prendi la max 10 e push u cazzo vai 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 a sinistra ce l'hai Vedi la porta! Dietro! 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 Dove dove? Via a sinistra! Via a sinistra! Via a sinistra! Via a sinistra! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Qua sono! Dai vedete! Ormai sono scappati! Cioè lo fermo lì da un pezzo! Sono qua vicino! No! No! Ma dai! Dio! Non dovevo farmi la corassa! Porco Dio! No! Non ce l'avresti fatto lo stesso! In due che ti sparavano! Dovevo prenderla! Eh! Porco Dio! Ecco! No! No! Vieni qua dietro! Eh! Vabbè che sì! Lo sapevo io! Dio! Merda! Uh! Mi hanno disfatto! Dio! C'è non son divisi, non è che felicitò! No non-non-non-non-no-no! Ok! Non ci CSR! No. No non-non-non-no-no! L'ho incontro una volta, porca madonna nooo, è qui eeeh si naso rotto come hai fatto a sbagliare la mira? non lo puoi spiegare questo io ancora non ho fatto no ero tutto destra hai preso me si ma hai preso me con tutte le patate la patta era dritta cosa avevo fatto di domande? cosa? avevo fatto di domande ah che coglione a terra ucciso a terra è un po' scaduto raggiungeste la zona sicura l'ho visto un sacco va 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 è ridotto male ridotto malissimo potete fare quali tranquilli no è massato no c'è un altro 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 bravo vieni 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 no niente niente ho messo uno a terra cazzo non ho colpa finiscilo 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 1 contro 3 colpo a terra 1 contro 1 1 contro 1 eh va bene eh io non ho neanche oh va prick no sei troppo fio no sei troppo eh ho capito mi scegliamo dai dai no 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 ma no un quanto di vita è rimasto un quanto di vita è rimasto lo voglio vedere ascolta la partita se non fa il video va prick cazzo lo devi fare eh ho capito se in sto gioco ci vuole un caricatore per farli fuori che ci devo fare vuote out andiamo a prenderli dai andiamo a prenderli vuote out se ne frega dai proviamo ok 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 doppia più manientato bravo paro bravo 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 ok proviamo un posto a comando per l'ora in non ho capito l'ho marchito sono due in casa due due con la terra a terra tutti i due dai finisci di finisci finisci bravo tutto il controllo adesso lo perdo sicuro Dov'è fu... Grandi Non ci credo Nooo Non è conviene aspettare che si chiuda questo No, aspe... Eh, infatti, così vado in qua E' una cosa? Ma in Asfa c'è il lato al culo o non è? Non c'è il lato al culo Non c'è il lato al culo Figlio di puttana, Castina in canca! Bravo Dove? Dove? Non c'è molto, molto Non c'è molto Non c'è molto No, è su Nooo Dov'è? 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 E' su, è su Nooo, lascio... Lascio più No, vabbè Una avvantaggia dell'altissima No, è uno... no Uno nel marchio, infatti Oh Nooo Oh Oh, ma no, Dio merda No, come faccio ad uscire da qui? Eccolo, eccolo, eccolo Eccolo, eccolo Uno contro due Uno contro due Uno Uno No, dai, dai Non ci prendo Però dentro una tempesta sono secondi di uscire, diovone Ancora secondi Un ruoto... Questa no Dai che un hub qua ho trovato Aveole dai fammi fuori Intanto assoluto Questa è morta! Ma quante finestre ha questo palazzo? Questa è un pochino! Gente! Gente sotto! Grande! Le ho... le ho te contro le corazze o contro i luoghi? Gente sotto! Operatore! No! Dietro! 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 No! No! Correte! Ne riuscirete la zona! 41 metri! E' venuto a su! 28 metri qua! Da qua! Oddio merda! Mi hanno solpita! Nemico in discesa nell'area... Sono saluto in testa! Ok uno... Like fuck! I just stopped! Fuck you! Fuck you! Ho un solpetto! Ecco! 5 squadre o 5 compresi noi? 2 o... Sì! Un dritto! Sì! Sì! 1 o 1! Di fronte! Non ci credo! 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 Sì! Ui! Bravo! 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 Finalmente! nooo ma io ho registrato quanto ne ho fatte? io ci sono una sdna kill la metti su youtube e ci sta almeno tirare fuori qualcosa in tre ore di live tre Dennis, tre Patrick, due io tre... no no, schifo è uniforme ma va là sì, ci sta ma va là, no, schifo troppo troppo io l'ho registrato, Patrick per me è mettibile tranquillamente sì, ci sta bene 6, 9, 11 14, 14 che fai debut sì, grazie e finalmente il titolo che ho messo a live di Twitch ha un senso ho messo come titolo a live di stasera vi insegniamo a vincere nooo grazie 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 grazie